Il Consiglio regionale della Toscana si prepara alla scelta dei grandi elettori. Saranno tre, faranno parte dunque della schiera dei mille elettori del nuovo Presidente della Repubblica. Ormai manca poco. Poi riprenderà l'attività del Consiglio regionale inevitabilmente condizionata dall'andamento della pandemia. Verremo i primi provvedimenti in discussione in aula. In questi giorni si è ricordato il decimo anniversario del naufragio della Costa Concordia e alla vigilia il Consiglio regionale ha promosso un confronto anche con il protagonista dei soccorsi di allora, Gregorio De Falco, oggi senatore. È un'anime il lutto per l'improvvisa scomparsa di Davide Sassoli, Presidente del Parlamento europeo ed ex giornalista. Lui toscano aveva partecipato a molti eventi politici e istituzionali nella nostra regione e a lui, all'unanimità, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso ora di intitolare il nuovo Media Center. Di Davide Sassoli, volto del Tg1, poi passato alla politica e dopo le ultime elezioni del 2019 eletto al vertice del Parlamento europeo, tutti apprezzavano il carattere mite e la gentilezza d'animo. Era un tenace sostenitore di un'Europa forte e unita ai dei suoi valori fondativi di libertà e tolleranza. In Toscana, dove era nato, veniva spesso. Parlò anche ai consiglieri regionali e agli studenti collegati durante la seduta che era stata convocata a maggio in occasione della festa dell'Europa. Il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole, che specialmente negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi, come cittadini, come decisori politici. La risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Non si tratta di recuperare le ricette del passato, ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità. Non dobbiamo avere paura della complessità. E non è più accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future. Il destino dell'Europa è nelle nostre mani, oggi più che mai, perché dobbiamo affrontare tante sfide che la contemporaneità ci mette davanti. E per affrontarle c'è bisogno del contributo di tutti. E credo che la Toscana non solo farà la sua parte, ma saprà offrire a tutti un esempio di come vivere, di come interpretare le sfide di questo tempo. A Davide Sassoli, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all'unanimità, ha deciso di intitolare il nuovo Media Center per i giornalisti e gli stessi consiglieri regionali. Sarà un bel modo, dice Mazzeo, di ricordare sia la sua esperienza giornalistica, sia l'impegno e il senso di appartenenza alle istituzioni che ha sempre avuto. La proposta è stata concordata con il presidente della Commissione per le politiche europee e le relazioni internazionali che intanto, arregionando, esprime il proprio dolore e il cordoglio per questa scomparsa. È una perdita dolorosissima, una persona che ha fatto cose importantissime per l'Europa, che ha fatto cose molto importanti per l'Italia e che è stato molto vicino alla Toscana, non soltanto alla regione toscana, ma alle toscane e ai toscani. Il ricordo di una persona per bene, di una persona buona, una persona che aveva saldi, valori e principi che non si vergognava a rappresentare, però sempre con un tratto di grande gentilezza. È una persona che ha costruito anche forse un'Europa diversa e credo che è per questo che in molti adesso lo piangono. Sassoli sarebbe stato anche un interlocutore diretto e prezioso, molto presto, proprio della Commissione. L'avevamo invitato per venirci ad illustrare un po' quello che è il percorso Europa, PNRR, Toscana, Italia. Purtroppo questo non è stato, abbiamo perso veramente una persona pulita, mi sento di dire questo, una persona, un grande professionista, un uomo di grande cuore e devo dire che sentivo nelle interviste rilasciate, nei vari telegiornali, una ragazza proprio da Bruxelles che sentiva dolore nell'aver perso il Presidente Sassoli. Ora che una ragazza da Bruxelles esprima un sentimento così forte, questo vuol dire che la persona era veramente di grande valore. Ma perché è importante che anche una regione come la nostra mantenga un faro acceso sull'Europa e che ci sia una commissione specifica per discutere di questi temi? Beh, perché ci riguardano, perché ci riguardano direttamente. Noi dobbiamo, probabilmente avremmo dovuto, dobbiamo, non so se abbiamo ancora il tempo però, di fare una fotografia di quella che è la Toscana, non spacchettarla in quello che sono Città Metropolitana, la costa, la Toscana Sud, la Toscana Nord. Deve essere non più centrale, cioè la regione guida dell'Italia centrale, ma deve essere la regione che si aggancia all'Italia del Nord, ma soprattutto all'Europa che produce. È un rapporto non soltanto importante, mi verrebbe da dire fondamentale. Sappiamo quali sono le grandissime sfide legate ad esempio al PNRR, ma anche ai fondi europei. È chiaro che costruire rapporti saldi, stabili e soprattutto una consuetudine è assolutamente fondamentale. La Toscana è sempre stata una terra, è un'amministrazione regionale molto attenta al rapporto con l'Europa, sicuramente anche con le grandi opportunità dei provvedimenti negli ultimi tempi, questo rapporto deve essere intensificato e questo è lo scopo del nostro lavoro. In quell'occasione del maggio 2021 intervennero anche il Presidente del Consiglio regionale e quello della Giunta, ecco in sintesi le loro parole. L'Europa è un luogo di opportunità, è un luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia e oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e il Presidente de Ossè danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa, di quanto la Toscana debba lavorare per essere sempre più un luogo in cui poter mettere a terra le tante iniziative che nascono a livello europeo. Oggi che si parli di vaccino o che si parli di recovery fund, qui veramente in positivo perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro Paese l'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini. Lo stesso Gianni sottolinea anche che noi qui in Toscana l'Europa ce l'abbiamo nel DNA è nella nostra grande cultura. Non a caso a Fiesole a sede da quasi 50 anni l'Istituto Universitario Europeo, il suo presidente, allora rilancia la sfida e la mano tesa alle istituzioni toscane. Siamo molto consapevoli di avere un grande debito nei confronti di una regione che è stata con l'Istituto sempre molto generosa e che poi ci è stato molto vicina in un periodo difficile per noi come per tutti, quello della pandemia. Abbiamo vissuto giorni molto difficili per il Covid. Da Natale ad oggi c'è stata una grande impennata dei contagi e i dati delle ospedalizzazioni sono cresciuti tanto che siamo passati da zona bianca a zona gialla. La Commissione Sanità continua il suo lavoro di monitoraggio settimanale della situazione tenendo conto anche della progressione della campagna dei vaccini. Prima domanda allora, come sta reagendo il sistema a questa nuova fase? Il sistema toscano sta reagendo ovviamente con grande affanno perché i numeri sono importantissimi. Ovviamente riscontriamo anche che quello che ci interessa è quello che succede negli ospedali soprattutto oltre il numero di contagi. Sappiamo che sempre più con la popolazione vaccinata e con una variante come la Omicron il dato sugli ospedali è quello più importante che comunque sia anche se non aumenta nelle proporzioni che succedeva nelle prime e nella seconda ondata però ovviamente sta mettendo in difficoltà gli ospedali perché i numeri sono troppo grossi e quindi è un elemento da guardare con grande attenzione. Ecco, questo è l'elemento che preoccupa di più anche perché poi ha un riflesso su tutta l'attività ordinaria della sanità. Parere diametralmente opposto, quello delle opposizioni. Come giudica il consigliere Petrucci la gestione oggi della pandemia? Molto male e penso che non ci si possa appellare al fatto che i contagi sono cresciuti così tanto perché si poteva prevedere, bastava vedere uno, due, due mesi e mezzo fa che cosa succedeva nel resto dell'Europa e noi mentre c'erano 150, 100.000, 200.000 casi in Gran Bretagna, in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi e dicendo da noi invece erano ancora limitati, si diceva sono limitati perché noi siamo stati più bravi nella campagna vaccinale. In realtà noi eravamo semplicemente più a sud. Quindi abbiamo gestito con supponenza e arroganza quella fase che ci avrebbe dato un vantaggio di due mesi sul resto dell'Europa. Conseguentemente siamo in questa situazione drammatica. È saltato tutto. Gli ospedali sono nel caos più assoluto. La gestione burocratica della vicenda all'altra della pandemia è nel caos più assoluto. E la colpa della regione in particolare e dell'Italia in generale è quella di non aver saputo anticipare questa fase. L'aumento dei casi e di conseguenza le nuove quarantene hanno anche bloccato a casa decine di migliaia di persone. Siamo arrivati anche a 200.000. È penalizzato il lavoro e molti servizi pubblici. Il presidente Gianni, con una propria ordinanza, nei giorni scorsi ha accelerato le cose ma non ha risolto tutti i problemi. Anzi, per alcuni ne ha creati di nuovi. Se si è utilizzato la politica del Green Pass come gestione della pandemia, per cui il Green Pass è l'elemento fondante per poter gestire la pandemia, è evidente che una scelta di fine quarantena deve essere una scelta che poi incide su poter utilizzare e avere a disposizione quel Green Pass. Altrimenti di che si sta ragionando. Quindi l'intervento di Gianni nel merito è giusto, ma nel metodo crea ulteriore complicazioni, confusioni e marasma assoluto rispetto a una situazione complicata, confusa e in assoluto marasma. Una cosa è parametrare 1.000-1.500 positivi al giorno, una cosa è 18.000 positivi al giorno. È evidente che non c'è la possibilità di censire, di tracciare tutta questa mola. Basta pensare che ogni persona positiva ha in media almeno 4 contatti. Quindi era una roba intensabile da gestire. E con un po' di ritardo, ma quello che si sta facendo è quello di rendere tutto automatico. E quindi questo è l'elemento importante, perché poi anche l'ordinanza del Presidente, per quanto è un'ordinanza a limiti, però è servita per questo, per dare alle persone che hanno già fatto l'isolamento, che sono negative, se c'è una difficoltà burocratica nell'arrivo del permesso, del foglio di liberazione, comunque sia possono uscire. Ci siamo, il Consiglio regionale. Il 18 gennaio dovrà votare i tre grandi elettori del Presidente della Repubblica. Il Presidente dell'Assemblea, Antonio Mazzeo, ha spiegato in diretta a Telegram Ducato, nella nostra trasmissione Il Mio Consiglio, come avverrà questa scelta. Saranno eletti due membri della maggioranza e uno dell'opposizione. Il voto sarà a continuo segreto, ogni singolo consigliere potrà esprimere due preferenze, con cui potrà decidere chi sono le persone che vanno a rappresentare il Consiglio regionale. Ma io dico di più, i cittadini e le cittadine della Toscana nella scelta del Presidente della Repubblica, nella scelta della più alta figura di garanzia per la nostra Costituzione e per il nostro Paese. E' una grande responsabilità, una responsabilità politica forte. E' vero, chi andrà varrà uno su milleotto, quindi davvero poco. Però la voce della Toscana deve arrivare forte. E noi dobbiamo chiedere che il profilo sia un profilo come quello di Sergio Mattarella. Questo non vuol dire che deve essere per forza Sergio Mattarella, ma una persona seria, autorevole, credibile, non di parte, che sappia parlare in Europa e al mondo con la voce, diciamo, forte, di rappresentare un Paese bello come l'Italia. Con le nostre immagini di archivio andiamo allora alla seduta del 2015, nella quale furono scelti i precedenti grandi elettori. Furono Enrico Rossi, Presidente della Giunta, Lucia De Robertis, Vice Presidente del Consiglio, e Stefania Fuscani a rappresentare le opposizioni. Mancavano pochi mesi alle elezioni regionali. Due anni prima, per il secondo breve mandato di Napolitano, dalla Toscana furono inviati a Roma lo stesso Rossi, che era già Presidente della Giunta, il Presidente dell'Assemblea Alberto Molaci, e per il centrodestra Roberto Benedetti. Nei nostri telegiornali di martedì e nella prossima puntata di Regionando ci sarà un ampio resoconto di questa seduta. La seduta sarà dedicata poi, naturalmente, anche ad altri temi. Nell'ordine del giorno ci sono il bilancio dell'azienda Ente Acque Umbre Toscane e quello del Parco delle Alpi Apuane. Tra le interrogazioni ci sono quelle sui ritardi nella comunicazione ufficiale degli esiti dei tamponi Covid, sulle difficoltà in questa fase dei medici di famiglia, sulla situazione nelle RSA. E poi c'è un'attesa comunicazione della Giunta su un'altra grave crisi occupazionale, quella dell'ortofrutticola del Mugello a Marradi. Qualche nuovo spiraglio adesso sembra aprirsi. Una delle prime commissioni a riprendere i propri lavori dopo la pausa di Natale è stata quella per le aree interne, che a fine anno aveva anche accolto positivamente l'attenzione riservata nella nuova manovra finanziaria. Direi di sì. Infatti l'aver istituito la commissione aree interne e periferiche dimostra che la regione toscana ha attenzione in questo senso. Io faccio parte della commissione aree interne e devo dire che anche nell'ultimo bilancio sono stati stanziati abbastanza risorse per le aree interne. Ma oltre a questo la regione toscana chiede anche una revisione un po' a livello nazionale delle aree interne perché ormai la revisione risale a diversi anni fa e quindi bisogna cercare di mantenere quelle che abbiamo e anzi magari aumentarle. Abbiamo finanziato il fondo per gli investimenti dei comuni e delle unioni dei comuni in area montana per 2 milioni di euro. Partiamo subito sul 2022 con questa cifra vedendo poi sulla base delle risposte che ci saranno e delle richieste eventualmente di andare a ulteriori aumenti. Così come è un intervento molto importante noi lo facciamo per i comuni più disagiati dove riportiamo il contributo ordinario a un milione di euro per questi comuni, spese fondamentali che grazie a queste risorse questi piccoli comuni portano avanti ma una misura che mi sta molto a cuore è quella che a noi tagliamo l'IRAP alle imprese che apriranno nelle aree di crisi complesse e non complesse e siccome purtroppo le aree interne e montane sono ricomprese tutte in questa perimetrazione significa che le nuove attività dal 2022 avranno la possibilità di avere uno sgravio IRAP. Poi i consiglieri si concentreranno su altre questioni avendo queste priorità, opinioni che abbiamo raccolto dai capi gruppo alla fine della seduta sul bilancio di fine dicembre risposte telegrafiche da ciascuno di loro alla luce di quella lunga discussione anche. Il Consiglio riparte da dove siamo arrivati dall'approvazione di un bilancio importante e poi con tutti quelli che saranno gli atti che serviranno per l'attuazione di questo bilancio e miglioramenti normativi che saranno necessari per quelle che sono le priorità che erano state della campagna elettorale e che dopo un anno ancora fermangono vale a dire la salute e il lavoro. Assolutamente sanità, sociale, ambiente perché sappiamo di essere ancora molto indietro e crediamo che comunque soprattutto sul piano rifiuti lo aspettiamo ormai da più di una legislatura e siamo estremamente indietro e i cittadini pagano fior fior di tariffe per quanto riguarda i rifiuti anche rispetto alle altre regioni d'Italia dobbiamo pensare di lavorare anche su tutto quello che è il mondo del lavoro, lo sviluppo del territorio. Per noi i temi sono gli stessi quelli che abbiamo sempre citato turismo, aiuti al settore del turismo aiuti allo sviluppo economico tema del sociale, vicinanza a chi ha bisogno e soprattutto occupazione del lavoro perché senza occupazione del lavoro non si riparte sono, guarda caso, le quattro aree su cui questo bilancio fa i tagli lineari questo bilancio a queste quattro aree taglia è vero che il covid ha profondamente destabilizzato tutto quello che è l'impianto della nostra struttura regionale è vero anche che sono emerse anche quelle criticità che noi denunciavamo che sarebbero avvenute quando venne fatta la grande riforma del 2015 la distruzione, quello che c'è stato della sanità territoriale ha molto inficiato sicuramente anche l'attività ospedaliera quindi riteniamo che si debba investire molto su questo, sulle nuove assunzioni sul ripristinare una sanità territoriale degna di questo nome quindi che sia in grado di seguire il paziente fuori Discusso sui nuovi progetti che verranno finanziati penso per quanto riguarda l'edilizia scolastica penso alle risorse che in questo bilancio inseriremo per tutti quei progetti che invece sono fermi perché c'è stato l'aumento delle materie prime penso a tante questioni che possono ovviamente partire subito come le progettazioni dei comuni rispetto ai loro progetti e quindi servirà poi dare una semplificazione per esempio della normativa urbanistica noi chiederemo una votazione della discussione della nostra legge che semplifica l'urbanistica nei comuni Noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio lo sviluppo delle nostre imprese il sostegno alle nostre attività commerciali in queste voci non c'è niente questo bilancio è un bilancio che non parla ai distretti industriali non c'è una politica dei porti non c'è una politica di valorizzazione del tessuto commerciale ecco è un bilancio che non ha non solo una logica ma è un bilancio senza visioni La tragedia della Costa Concordia rivive nelle celebrazioni organizzate al Giglio nel suo decennale il 13 gennaio ma anche nelle parole di chi allora coordinò i soccorsi invitato proprio dal Consiglio regionale ad un confronto a più voci alla vigilia il 12 gennaio a Gregorio De Falco adesso è senatore Passano 45 minuti prima che venga data l'emergenza generale che viene da me richiesta con la prima interlocuzione alle 22.34 circa quindi circa 45 minuti consideriamo che il tempo di abbandonare per regola internazionale è di 30 minuti se si fosse proceduto quindi a dare all'emergenza generale i famosi 7 fischi di continuo e le persone fossero state riconvogliate alle master station cioè ai punti di raccolta e poi imbarcati a bordo delle sciaruppe vogliamo dire che si sarebbe impegato il triplo del tetto ma con la nave ancora dritta si potevano sbarcare tutti quanti entro un'ora, un'ora e mezza la nave comincia a inclinarsi paurosamente dopo mezzanotte e dopo mezzanotte le lance sul lato sinistro non scendono più in mare ci sono un sacco di storie tantissime storie storie umane come la storia di Giuseppe Girolamo Giuseppe Girolamo era un musicista un giovane musicista faceva parte così dell'equipaggio la sua storia è stata accennata inizialmente poi recentemente è stata confermata dalla testimonianza della signora che si trovava dietro di lui nell'imbarco per imbarcarsi sulla sciaruppa con un bimbo, con una bimba non so e gli chiese di cedergli il posto perché nella sciaruppa c'era il marito con l'altra gemellina Giuseppe Girolamo fece questo gesto così si fece da parte e fece imbarcare la signora con la bimba lui non sapeva notare ed è morto hanno partecipato i direttori del Tirreno e della Nazione e il presidente appena eletto della provincia di Grosseto alla fine Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale ha tratto le sue conclusioni e ha annunciato le prossime iniziative in questa direzione Io penso, ho sempre pensato che il Consiglio regionale dovesse essere il luogo per dare voce a chi ha meno voce un luogo in cui aprirsi alla collettività e cercare anche di raccontare perché quello che è accaduto non riaccada più io penso alla battaglia sui diritti a tutto quello che ha significato essere la prima nazione primo Stato al mondo a non aver abolito la pena di morte penso a quello che stiamo facendo per sostenere i diritti oggi dei lavoratori delle piattaforme digitali insomma io ho cercato di impostare il lavoro di questa legislatura cercando di dare voce a chi ha meno voce di fare da amplificatore a chi riesce ad uscire meno e questo anche grazie all'aiuto dell'informazione dell'informazione locale regionale, nazionale penso che questo sia un compito dell'istituzione del Consiglio regionale ricordare e fare in modo che quello che è accaduto non accada più finisce qui questa prima puntata del ventesimo anno di regionando su Telegram Ducato appuntamento tra una settimana venerdì prossimo sempre dopo il Tg della Sera Ducato della Sera Grazie a tutti